Bene, è finalmente giunta l'ora di gustarsi per l'ennesima volta un caldo come l'allenatore nel pallone. Mi sa che mi hanno preso per un eroe. Come l'allenatore nel pallone. 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 L'allenatore nel pallone. È a un metro. Io non so come fa a non beccarmi. Ci ho anche messo il rinforzino. È grande. Ci ho messo il rinforzino. C'è il cappello. L'altro cappello. Non riesco a capire come fa a non beccarlo. È la milionesima volta. L'allenatore nel pallone. 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 Ma io non capisco. No, scusa, stai lì? Nel pallone. È la bella cosa. Come l'allenatore nel pallone. Oh, ma perché? Come fai? Come fai a non beccarlo? La bella cosa è un uncommettino.